Qui vediamo se Darcy cambia le cose, secondo me sì, Arcanist non faceva abbastanza, Darcy mena, in questo mazzo ovviamente Arcanist non fa abbastanza. Guidigno, il video delle intere basi di Magic l'ho fatto insieme a Tian ed è nella stessa playlist Beginners. È proprio base, 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 cioè te mi stai chiedendo forse qualcosa di più, cioè tipo di tips avanzate, cioè consigli avanzati, lì è un casino fare un video dedicato perché dovrei rispondere a domande specifiche, o si fa una FAQ, faccio una stanza su Discord dove scrivere le domande più che vi interessano di più e poi faccio un video dove rispondo a quelle domande. Interessante. Interessante come ipotesi. Interessante come video. Ed è una cosa che si potrebbe fare anche spesso. Cioè tipo una volta al mese. Lo farò. Il FAQ. Il FAQ mi delmo. Too much. Il domandelmo. Bellissimo. È mille. Vabbè. Succede anche questo. Botte. Prima domanda. Nonna veloce e molecola rapida. Glorybringer è lentissimo. Tipo. Non va. Quando vinto. Adesso ti dicevi. Ma sei quello che sai su That. Il FAQ. È lentissimo. Queste mi servono per i granchi Meno fortissimo Manzimilso o Pisani? No, sono più di campi Bisenzi Ho proprio posto lì Forte Crocs, abim No, devo lasciare una terra Ok, almeno una la posso lasciare, no? Una push Tasha in tasha è morto Il turno dopo Io conosco quel mazzo Non è che sia al massimo dei removal Appunto Tanto strano vederlo in best of three mill Molto strano Solo aggressione pura Lì sì Ma tengo due push Metto Clotis Command Che è che ha la side contro mill? Io che metterò una Geass Blessing Che fate domani a Capodansia? Noi ci schiantiamo in casa con gli amici A cantare, ballare, mangiare e giocare Fine Non usciremo di casa Sesso Va bene Dave Esatto Anche noi giochi da tavolo e così No, non si esce di casa Non vogliamo andare a pestare i petardi Dei Maranza Vedo che tanti hanno optato per il casa Anche in tanti Anche in casa In villetta In 40 Però in casa Nessuno vuole uscire Al Capodanno Bravi Avete imparato Dal Covid e dai Maranza Avete imparato Per Cassonne o P Ma a me I due anni di Covid Non hanno fatto che confermare Quello che già sapevo Che io sono Che io sto benissimo in casa Sono un quasi Kikomori Io esco di casa Una volta a settimana E sto benissimo Eh, serata intendo Ovvio Esco di più di casa Anche per fare delle cose Così Però tipo L'idea di Con la concezione di serata fuori Una volta a settimana Mi sta benissimo Come va questo Jund Stiamo continuando A sistemare Carta per carta Ma secondo me Arriviamo a una buona conclusione Esatto Anzi Ma anche noi Noi siamo tipo 12 12 Ognuno porta Da mangiare Da bere Qualcosa Tipo io faccio Le pizzette sfoglia Sarde Silvia fa Le polpette E portiamo Due bottiglie di vino E un po' di birra Poi c'è quella Che porta la pasta Quello che porta Gli arrosticini Quello che porta Le lasagne Quello che porta I Cazzi E così via E così via E così via Quella che porta La torta salata C'è sempre una persona Che porta la torta salata Come mai Poi l'adorabile Liliana Porta Le La pasta Alle noci Perché sono C'è Stefano Lo conoscete Stefano Stefano E con me A capodanno Tra l'altro Sono ancora Sconvolto Il caso Che una persona Che si chiama Cioè una persona Come lui Che gioca a magic Così tanto Si sia fidanzato Con una ragazza Che si chiama Liliana E' bellissimo Sei tu il port Chi è Ricordati Nel gruppo Se non c'è un portatore Di torte salate Sei tu No ragazzi Il prof è a piombino Ma se io vado A prendere azzoletto Sono stronzo Ma sai che forse Forse niente niente Prendo goblank Sì Sì Infatti Tanto me la macina È abbastanza nulla Ovviamente Questa cosa è molto forte Non ci avevo mai pensato Non si abbandono Gli amici a Capodanno Non ho abbandonato Gli amici Ho altri amici A Milano Ragazzi Via 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 what e darsi è molto forte è molto più forte di arcanist in questo mazzo what che merda è buon to last re coning è veramente volersi del male chandra non vuoi togliere chandra si pazzo che dell'ital dottore si molto meglio in questo meta risol of suit tutte le creature problematiche costano tre o meno tutte tutte le creature problematiche costano tre o meno tre o meno se la vedi che ti sta battendo sicuro costa tre o meno o meno sta che vuoi lavarmi male è passata da tanto tempo Pasqua e la prossima Pasqua è tra tanto tempo ci si lava Pasqua cino non hai imparato niente dalla gleba ci si lava a Pasqua il resto dell'anno è sciacquettini sciacquettini come si fa tutorial tutorial come si fa lo sciacquettino sei sul lavandino apri l'acqua ascella e fai ciaff cioè uno schiaffo all'acqua del rubinetto verso la tua ascella uno due fatto lo sciacquettino uguale pipì e dici beh ti devi mettere sul bidet che perdita di tempo appoggi pipì e palle sul lavandino e ciaff ciaff anche sul pipì pronto denti lavarsi i denti cioè prendere lo spazzolino metterci i dentifiche tanto devi bere durante l'acqua il giorno no quindi come ci si lava i denti te invece di bere normale fai ah lavati i denti pulirsi il culo pulirsi il culo ci pensano le coperte la notte a pulirti il culo tanto ti muovi automaticamente le coperte per attrito ti puliscono dolce una volta a settimana stai uccidendo le persone a cui manca l'acqua anzi cioè vergognati per fare lo sciacquettino basta fare chiaccia finito con quell'acqua che te non hai usato qualcuno può vivere lezione di vita di delmo del mini esatto i piedi non si lavano scusa i feticisti si offendano se ti lavi i piedi il discorso è poi la rituizzi di nuovo anche oppure anche l'acqua dello sputo dello sciacquettone della bocca risputi dentro un catino appena è pieno a pasqua ti ci fai la doccia appunto e te arrivi da pasqua a pasqua che il catino dove te ti ci lavi è tutta l'acqua che hai usato prima è geniale è geniale capelli unti vada bello non hai problemi di capelli se non li hai ci butti oh ma quello durante l'anno ci butti la pasta scusami scusa con cosa la vuoi condire la pasta oltre a lavarla con l'acqua con cui ti lavi oltre a cuocere l'acqua con cui ti lavi la condisci col ricottone eh il ricottone un po' d'acqua di cottura fatta la cremina stiamo 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 decisamente esagerando adesso siamo andati un po' troppo oltre però è stato molto divertente basta ancora sti imbecile ma si riciclano anche i tarzanelli e come la mette l'uvetta nel panettone no ho pescato fatta il push fuck comunque più forte tasha ora doppia se c'erano tipe sono uscite dalla live non c'erano e questo è il modo con cui tengo lontano le donne dalla live perché ho paura delle donne hai sbagliato mana no no ha fatto maddening no io ho paura le donne dicono cose sensate e ti fanno riflettere noi siamo scemi e giochiamo a figurine non vogliamo persone dicono cose sensate non vogliamo parlare di pasta cotta nello sp... no dopo crocs c'è Bontu non voglio fare crocs aia c'è Bontu last palle dovrei riuscire a scartargli alla prima ecco questo è un buon bait bon ci arrivo un attimo fammi fare le ossa nell'ordine giusto ora avrà a te e faccio crocs Ubuntu si è proprio lui io ho 12 carte però sono molto vicino ad essere morto male però lui è anche molto vicino al top deck se ora avrà soprattutto se avrà è time walk più che top deck time walk per me muore questa carta fa schifo al cazzo già una delle mie canzoni preferite del quale ancora non ho capito il testo però va bene così se no non me lo ricordo ho fatto il testo il testo bimbi c'è una carta a mano piccolo time walk per noi ho sbagliato no ho sbagliato continuando a sbagliare porca allora oh ecco perché non 5 danni gratis a caffa closis azuret client blank no però tolgo molto in impact che c'ha andrà comunque troppo lenta eh è bello per trovare anche qualcosa che non sia mill ma come mill de merda l'abbiamo creato l'abbiamo creato noi per il mazzo lui è un fan l'abbiamo fatto noi un mese fa questo mazzo c'hai granchi rezial c'hai granchi se fa granchi di primo ho perso preferisco scartarmele con fatal con fable se non mi serve questo è il mill figlio della gleba esatto altro ottimo l'holycub che scrive per la prima volta in chat dicendo l'ottima frase figlio della gleba mi piace questo mazzo è figlio della gleba mi piace tanto devo mulligare mannaggia devo tenere mannaggia vabbè gomblank diciamo di passaggio sti cazzi non userò il cimitero che dispiacere morte praticamente il mazzo più forte della storia della vita dell'universo hai pescato terra se no gg un po' spiace un po' spiace un po' spiace eh un po' no mi serve un cazzo no 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 non ti faccio cercare terra mi dispiace glimpsa 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 il canale nikon pipipipis grazie per 5 mesi di prime nico n pps oh pipis anzi più bello pipis 5 danni nell'alghigna nikon pipis 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 tutti col pipis per nikon signore eeeh mannaggia guarda veramente mannaggia queste cose che veramente mannaggia mannaggia boom bam i eh no eh vabbè potremmo anche ne va ovviamente a lei ora fa ubuntu vedi guarda il push a cosa servono a cranchio diventato di acerra per 10 secondi non so come si parla di acerra e non ricordo come ho parlato un secondo fa non ho la minima idea di che accento io abbia fatto 5 secondi fa zero eh cancellato secondo voi io mi ascolto mentre parlo sono i vod per riascoltarmi il mio cervello devo usare la metà della potenza io sono uno di quelli che usa il 780% del cervello che oppo non concede perché gli piace soffrire autotapper ho vinto uguale perché ho vinto uguale ma autotapper che cazzo fai ma perché ma qual era il motivo ma c'era veramente bisogno anche io ci ho perso molte volte se ce lo sta attento fa tempo questo l'abbiamo farmato eh ora vogliamo fare una partita che non sia mille grazie muore no bisogna anche uscire sempre fuori lì che deve finire il calendario dell'avvento è una cosa gravissima questa ora arriva Vladimir e lo rifarmiamo giustamente 2 win vai sopra no 3 3 minimo 2 ci hai perso 2-3 ci hai perso ciao Kudru da 3-2 in best of 3 inizi a godagnare inizi a godere dai signori di magic della queue di magic per favore di magic mi fate trovare un avversario di magic di magic per favore di magic bisogno di magic qualcosa di magic posso avere di magic è una verità dolorosa ma è una verità quale direte voi non lo so si comunque la serie ah si si domani esce si 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 no mulio keep tengo crucius ebbene si ebbene si kirk assolutamente non fallato il sistema di matchmaking per niente cosa intendi per fallato qual è il problema quando un jandistoric con crucius e questo è un jandistoric con crucius e insieme crucius comunque credo si credo che il massimo potenziale crucius e jarsil lo esprimano insieme ciao ciccio buone feste a te soprattutto a te e no quell'altro lì un pezzo di merda lo vedo sai lo stronzo chifoso mena mena ah non mena posso ce l'ho rivolto preoccupa ho giovan magic coglione imbecille cretino ammo picchio ambitius a godere a che mi devi togli crucius stella eh krenko fa un po' ponco krenko da sonco fa un po' ponco brah guarda come rampa come fixa come croxa come puzza guardalo come brizza come bluzza come lazza come uozza come pizza come spazza macciona va a prendere mutsu e c'ho tozzi cazzo me ne frega come spruzza come gizza no gizza no gizza gizza brutto qui va un po' troppo tanto oltre devo pescare il signorino tu mi stufi conosciuto anche a me gloria bringer ddddd yep è un problema krenko è un problema sono tanti a lot a meno però gira tutto e stuzzica oh perché ha chiuso il turno dopo se va di serio a meno che il massacro mi toccavo fortissimo l'ass vediamo se si spaventa e va tutto sull'iliana e mi da il tempo di pescare quello che fondamentalmente non ho ovvero removal di massa belle fratte ce l'ho di side non è un problema ce l'ho belle l'urse and the side si vedo se sarebbe strabello una carta creatura tipo 5 mana 1 2 quando entra nel campo di battaglia se controlli un planeswalker copia l'abilità attivata di un planeswalker che controlli compresa la ultimate strabello lo scendi e ulti un planeswalker tuo sacrifica un planeswalker che controlli se lo fai attiva l'effetto di una delle abilità attivate di un planeswalker e con tipamente ti sacchi un planeswalker per fare la ult è appena successo quello avevo telefonato eh comunque faccio burning wish e vado a prendere witch vengeance erano bei tempi questa è una terra persa paolaldo col prime paolaldo 91 bella proprio bello grazie per i 10 mesi di prime spark stealer bello spark eater spark eater ed è un firexiano sarebbe molto bello 6 mana 1-2 6 mana 1-2 sacrifica un planeswalker che controlli se lo fai copia l'abilità attivata di una delle abilità di quel planeswalker e attiva senza dover spendere loyalty eccetera eccetera insomma fa lo stesso effetto sei sorzeri maledetto quindi lo fai con bolas con bolas giri tutto cioè fai i bolas con quello chiudi è little bro è little il chiarissimo ritorno di bolas certo ovvio scusa è troppo dispersivo tozis è forte roxa meno fable meno liliana molto meno anche sandra una se ne va il mio pepi sai sa di puzzo sa distruzzo come fai no non sono usciti altri spoiler che io sappia ho 0 terre ora troppe no ok tocca tenere kevin twitch grazie per il prime benvenuto che ci fai anche quasi partire l'ipotreno quindi se qualcuno ora fa qualcosa parte l'ipotreno della gleba dottori mica cazzo pensavo sacrificio skirk per un altro skirk pensavo molto bello prego del mone sto toccando il pipio al masella beh c'è da dire che toccare il pipio al masella è un'esperienza bisogna vedere se è positiva o negativa ma sicuramente è un'esperienza è tipo crocs ok perfetto carto matrona sì sentiamo cosa ne pensa il signor caprietti tu pu tu tu pu pi tu prrrr prrrr pronto signor caprietti volevamo sapere come sta andate a far culo a merda che io qua sto già organizzando il capodanno a casa tua imbecille tu 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 e lo sapevo che non potevo lasciare i capretti da solo qui giro core channel pertanto andano gratis non parerà mai prospector perchè è una terra per lui per il prospector ah non hai pescato il mana eeeh un po' spiase capretti non lo porti mai a milano ma capretti sta bene a casa la carta più forte di magic roba da legacy veramente non so chi cazzo ho pensato che questa carta fosse corretta e dite ma te lo spacca con una braid si ma si toglie prospector no non ha deciso di no ok salmo goif non è male tutto ciò che può essere mana te lo tolgo stronzolo ale grazie caro grazie per i 5 buon anno stella mi piace toglierli nemesis trattino basso 89 cosa non lo senti grazie nemesis bj white trattino basso grazie kevin grazie kevin anche te grazie mille grazie mille per i sabbi ragazzi grazie per l'ipotreno del leva express di fine anno che poi domani è l'ultima live peraltro oh ce l'ha fatta ce l'ha fatta eh toscano ti fa godere ti fa a godere si domani mi sa che faccio kaizo di fine anno si e peraltro presto tipo alle 11 ovviamente poi devo andare a fanculo a fare il capodansia eh Trieste punto assumativo Bologna domani è l'ultima live si eh si toglie il caro aspetta ma serve effettivamente Krenko rompe il cazzo si va tolto farò così toh pum nel viso willy 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 it's killing me è zero o pari puzzi puzzi di pre puzzi para la pescaterra e vince goblin è una merda farda di asino viene un po' di farda di asino tum terra persa e no eh e invece e invece è andata Mario in che rampage però fa veramente schifo al cazzo no va bene non si goblin è figo ma è un po' troppo poco affidabile e ti segue c'è molto più Rakdos che Monored ti eti così dissing tra le vornesi eh cos'è si sta letiando se ci sta meglio o no la melanzana nel 5-5 ovvio che ci sta bene la melanzana nel 5-5 cazzo i problemi ci avete non perde il tuo gruppo perfetto melanzana sotto al pesto torta melanzana pepe francesino spumina ghiaccia anche d'inverno anche un meno 2 la spumina deve essere ghiaccia ho perso questo è un buon molto in impact invece e va brutto ma in realtà lo è perché se fa skirk ve lo man è in più così mi sto mettendo da parte un bolt da fare insieme a Fatal Push perché riordiamo a tutti che è molto in impact è un'arta bilanciata offendi Giacomo che è comunista e ti do una sub Giacomo virgola che sei comunista virgola ti puzza il culo che non è riferito al fatto che è comunista però ti mi hai detto offendilo che è comunista mi hai detto offendilo per il partito politico l'ho offeso e basta poi asserendo il fatto che è comunista quello è un altro discorso io mi sa che qui t'armo tanto non può fare Muxus adesso però qualsiasi cosa fa si becca Fatal Push e Bolt e ricordiamo sempre molto importante che Molten Impact è una carta che ha senso un bait è un fottuto bait io non lo voglio buttare via questo 3 questo è un 2x1 gigantesco ha così senso salvarmi sto Tarmogoyf buttando via un Bolt gratis no è vero che imbecille ma perché ci penso anche voi tutti uguali come me tutti zitti tutti testa bassa oh Cristo no no fermi fermi così mi salvo va 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 morto come non hanno rapidità non può attaccare perché non cranco perché se tolgo cranco lui fa comunque i goblin e mi attacca con tutto ragazzi le base si toglie il rapido si toglie quello che dà haste faccio wing wing ven anzi rimane solo con mozù lo skirk che non aveva più non ho intenzione di parare quindi intanto meno con 6 7 8 danni questi van bene van bene quindi pescare una terra non sarebbe proprio schifo male brutto merda schifo eh è da dirlo kevin grazie alzo nick trattino basso rosso la puttana lo faccio solo per aumentare l'intensity lo so che non funziona oh cristo oh cristo quanto forte sei anche anche 7 così tecnicamente pulisco però devo devo top deck a terra assolutamente non pesco terra sono morto sempre non sempre ovviamente sono vivo però non posso attaccare con tarmo minchia vado a 2 1 1 2 non fa differenza non era meglio shield è meglio toglierle le cose figa ma che culo c'hai ma fai schifo marcio male cioè proprio buzzi buzzi aah goccioli merda ce n'hai uno per di chandra una ce n'hai nel mazzo una era l'unico danno diretto di tutto il mazzo se fai meno 4 su tarmo guarda lo metto topdecker rapido guardalo guardalo come topdecker rapido ci ammazza guardalo 3 2 1 persa perchè tanto questo è blessato si è capito ah no e me la merito si lo so ragazzi lo so state calmi lo so so giocare a magic tranquilli lo so che si va a 10 fa 6.000 pesco 14 tranquilli lo so tranquilli non vi preoccupate ora pesca muxus e si perde ottime pescate mamma mia ma che cazzo perchè non ho fatto più l'ha trollata dai l'ha trollata lui l'ha trollata l'ha trollata comunque shieldred mince che è bellissimo e jarzil è la carta più forte di magic e assolutamente questo mazzo è molto meglio senza arcanist 100%